Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute, se è la prima volta che aprite un video di questo canale oggi parleremo di quelli che sono i miei must have per questo periodo per quanto riguarda capelli, skin care, viso e corpo se siete curiosi di sapere che cosa sto utilizzando ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video ma prima vi chiedo tanti e tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel, a me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla Bentornati e bentornate, ogni volta che faccio un video sulla skin care e sull'air care non vedo l'ora la scrivania piena zeppa di roba perché vorrei farvi vedere tutto, per cui bando alle ciance partiamo subito prima cosa parliamo di un brand con cui collaboro da tantissimi anni sto utilizzando un prodotto che mi avete sempre visto e un prodottino nuovo per cui vorrei parlarvene allora per prima cosa vi faccio vedere questo che è il Golden Radiance Body Oil come sapete io lo utilizzo da anni, io ho una pelle molto molto problematica tendente al secco, al molto secco e soprattutto molto sensibile, una pelle che si macchia facilmente, una pelle che soprattutto questo sul viso ma anche sul corpo che difficilmente si idrata, perde di idratazione in tempo zero quindi questo olio utilizzato soprattutto appena finita la doccia io lo utilizzo praticamente sempre quando faccio la doccia mi consente di mantenere un'idratazione più alta su tutta la pelle perché ovviamente essendo un olio va a fare una pellicola e impedisce all'acqua di evaporare nell'immediato quindi evaporare velocemente e invece le consente di rimanere a contatto con la pelle quindi di penetrare più in profondità e quindi aiutare la nostra idratazione in maniera profonda io lo utilizzo massaggiandolo, a volte mi aiuto con dei tools ultimamente non sto utilizzando i tools perché ho le gambe molto molto sensibili soprattutto per il freddo e soprattutto perché in questo periodo non sto molto uscendo di casa per cui faccio pochissima attività quindi metto questo appena fuori dalla doccia e lo massaggio con le mani quindi normalmente faccio un massaggio che parte dal tallone del piede, la cabiglia, il polpaccio, il ginocchio e vado su fino alle cosce io lo metto ovunque, lo metto sulle braccia, lo metto sulla pancia, lo metto sul seno sul seno mi ha aiutato tantissimo ad ammorbidire la cicatrice che purtroppo è la mia grandissima perché come sapete sono stata operata di cancro per cui ho avuto una mastectomia totale la mastectomia totale purtroppo lascia dei segni anche estetici molto molto evidenti e quest'olio mi ha davvero aiutata moltissimo a far sì che la cicatrice si ammorbidisse a tal punto da diventare quasi invisibile ovviamente ragazzi non sto dicendo che fa dei miracoli che ti toglie le cicatrici però sicuramente una cicatrice grande così che era molto molto scura e quindi diventava molto molto evidente è rimasta grande così è molto morbida per cui dà molto meno fastidio e soprattutto il colore si è uniformato a quello della pelle per cui praticamente è quasi invisibile per me è ottimo e lo consiglio davvero a tutti anche perché non so se ve l'ho detto ma io ho problemi di psoriasi per cui la mia pelle tende a seccarsi in tempo zero tende a disidratarsi in tempo zero e grazie a quest'olio questa disidratazione avviene meno frequentemente cioè quindi nel tempo la mia pelle ha iniziato ad essere comunque costantemente più idratata per cui per me questo è un prodotto che rimarrà forever and ever tra i miei preferiti e lo consiglio davvero a tutti quanti il secondo prodotto che ho provato ad utilizzare è questo che si chiama vediamo se lo mette ok questo qua con l'etichetta lilla si chiama Azelike Radiance Face Treatment è praticamente un trattamento viso per le pelli che sono reattive e acneiche quindi nella mia situazione previene tratta i segni dei brufoli i punti neri, le infiammazioni e le eruzioni cutanee nel mio caso come lo uso? lo uso soprattutto nella parte inferiore del viso perché qui probabilmente voi non le vedete perché ho truccato il viso ma se mi vedete nei vlog lo sapete qui ho sempre delle macchie che sono dovute a quei pochissimi brufoletti che mi vengono durante il ciclo e qui ogni tanto magari mi si arrossano la parte delle guance e degli zigomi per cui io lo utilizzo sotto questa, cioè su questa parte di viso e non lo utilizzo sopra perché sopra invece ho la tendenza ad avere la pelle molto 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 secca per cui evito di utilizzare l'acido azelaico per cui avendo una situazione del viso così mista ma ben separata lo utilizzo nella parte qua sotto dove appunto c'è effettivamente una problematica che può andare trattata e che viene sicuramente migliorata da questo prodotto e non lo utilizzo nella parte sopra il prodotto si presenta così anche qui abbiamo una boccetta in vetro un erogatore di quelli soliti ok come vedete vediamo se si vede ok come vedete è liquido è molto, cioè non è denso cioè è molto liquidoso e soprattutto si assorbe praticamente quasi nell'immediatezza quindi non si fa fatica, basta massaggiarlo un pochettino un massaggio che fa anche bene al viso e si assorbe quasi immediatamente ti lascia la pelle molto morbida infatti avevo paura ad utilizzare questo prodotto perché avevo paura che mi lasciasse la pelle secca in realtà no, lascia la pelle molto molto morbida e il profumo non dà neanche fastidio anzi è leggermente profumato mi piace, mi dà un senso proprio di pulito quindi lo metto più che volentieri anche perché metterlo qua se il profumo non ci piace è brutto mentre invece dà proprio un senso di pulito non lascia la pelle appiccicosa ma la lascia molto molto morbida questo trattamento lo consiglio soprattutto se avete problemi magari di brufoletti oppure di macchie lasciate dai brufoletti oppure di pelle che è tendente appunto all'acneico oppure a sporcarsi oppure con i punti neri oppure i pori a dilatarsi e riempirsi di schifezzine varie questo trattamento è veramente ottimo ebbene ragazzi i prodotti di Freshly vi arrivano a casa con queste scatolette che sono veramente deliziose e soprattutto dentro praticamente sono chiusi con questo packaging e dentro sono ammortizzati con questa carta ve lo dico perché tante volte anche il packaging è importante anche e soprattutto se volete fare un regalino inoltre dentro ci sono sempre degli adesivi deliziosi e degli sconti con dietro anche dei QR code per utilizzarli sul sito vi ricordo che entro il 28 di novembre ci sono tanti sconti legati al Black Friday ma soprattutto hanno alzato anche quello legato ad L'Air Channel per cui vi lascio tutto sotto nel box informazioni compresi i link ai quali trovare i prodotti che vi ho fatto vedere sempre per quanto riguarda il viso andiamo avanti e vi faccio vedere un po' di tools di quelli che sto utilizzando allora uno è questo che sembra il foreo in realtà non è il foreo l'ho trovato su Amazon per cui e lo utilizzo da questa parte qua che ha i dentini diciamo così più leggeri e più morbidosi lo utilizzo per lavare il viso quindi metto qua sopra direttamente il detergente per lavare il viso e poi lo utilizzo massaggiando quindi fa la schiumetta eccetera eccetera vado soprattutto ad insistere nei punti dove il viso tendenzialmente si sporca di più la parte dietro invece che vedete che ha dei dentoni un pochettino più grossi vediamo se ok vedete che ha dei dentoni un pochettino più grossi e meno morbidini lo utilizzo per spalmare le creme fa praticamente un massaggio che mi piace un botto mi fa una specie di solletichino ma in realtà mi fa un massaggio che mi piace un botto e grazie proprio a questi dentini praticamente le creme arrivano sicuramente più in profondità perché vengono veramente massaggiate molto fino al completo assorbimento lo utilizzo anche proprio nel contorno occhi mi piace tantissimo il massaggio che mi fa questo e soprattutto quando questo lo utilizzo alla mattina sul contorno occhi con delle creme contorno occhi in pratica mi sgonfia tantissimo l'occhiaia ma proprio immediatamente e mi dà proprio un senso di lifting fatto col massaggio ovviamente non dura tutta la giornata però vi garantisco che se state soprattutto senza trucco alla mattina si vede tantissimo la skin care fatta così gli altri tools che utilizzo sempre che mi piacciono molto e continuerò ad utilizzare per lavare il viso sono questi questo qui è il mio octopus e praticamente anche qui abbiamo dei dentini da questa parte di qua ok quindi abbiamo dei dentini da questa parte di qua vedete e poi dei dentoni da questa parte di qua dentro c'è praticamente una spugnetta che va a diciamo così a amplificare la schiuma del sapone mi piace molto questo lo uso soprattutto la sera e questi anche questi sono quelli che normalmente mi porto in giro quando devo andare da qualche parte normalmente nella mia borsetta della skin care mi porto questi e quindi con questi mi lavo il viso dalla parte di questi qua leggerini metto il sapone quindi mi insapono bene il viso per sapone io intendo termine generico con il quale si indicano tutti i detergenti ognuno deve usare il detergente fatto apposta per la sua tipologia di pelle lo dico perché poi mi fanno dissing su queste cavolate che io dopo è scontato che l'italiano lo conosciamo tutti per cui con sapone sapone è un termine generico con cui si indica qualsiasi genere di sapone poi è ovvio che ognuno deve utilizzare quello adatto alla propria pelle quindi mettete il sapone quello adatto per la vostra pelle su questa parte qua massaggiate io tendenzialmente faccio dei massaggi che portino in sul viso proprio per contrastare l'azione della gravità e invece con questa parte che è un pochettino che ha i come si dice i dentini un pochettino più corti più rigidi e più grossi faccio il massaggio proprio sotto nella parte sotto gli occhi così ok anche qua sempre verso il fuori mentre invece le creme come le stendo e le creme sempre con i miei soliti guascia ragazzi io ve li ho sempre fatti vedere una volta li tenevo io nel negozio adesso il negozio io l'ho chiuso lo sapete benissimo però li trovate tranquillamente su amazon io sotto vi posso lasciare il link a quelli che sono i miei fornitori di fiducia comunque li potete trovare veramente dove volete costano veramente una sciocchezza per quello che valgono attenzione che sono di pietra vera per cui se vi cadono si rompono ve lo dico perché io ne ho già rotti due questi hanno due forme diverse e io li utilizzo in maniera diversa li utilizzo sia sotto gli occhi li utilizzo sotto il mento li utilizzo nella parte intorno al naso per le rughe della marionetta per quanto riguarda gli zigomi li tiro e poi scendo per quanto riguarda il collo ragazzi il collo non ce lo dimentichiamo per quanto riguarda le occhiaie per quanto riguarda i sopracciglio e per quanto riguarda la fronte e la ruga della glabella ragazzi io faccio tutti questi massaggi guardatemi voi mi dite ah ma tu quindi hai il botox così secondo voi questa è una fronte da botox questi sono occhi da botox non so io faccio non vi dico più niente ragazzi perché poi vorrei che ci arrivaste voi alle cose perché poi se ve le dico io sono autoreferenziali però non ho una faccia da botox non ho rifatto niente i miei zigomi sono naturali anzi sono purtroppo molto molto caduti è ovvio qua mi vedete con il trucco le luci eccetera eccetera però non ho fatto niente se volete vedere la mia faccia bella pulita basta che guardate i vlog alla domenica sera e lì normalmente appena mi sveglio mi punto il telefono non ci sono filtri non ci sono trucchi non ci sono luci strane dello studio e mi potete vedere esattamente come sono ho le mie rughette qua a maggior ragione che continuo a dimagrire e quindi mi sembra che la faccia mi cada a terra però cerco di tenermi comunque la faccia in piedi proprio grazie a questi tools e a tutti i prodotti che vi faccio vedere normalmente quando parliamo di must have skin care oppure adesso vedremo anche l'air care quindi questo è quanto passiamo ai capelli perché vi avevo promesso che vi avrei fatto un video dove parlavamo anche dell'air care e per i capelli come sapete e spero che oramai lo sappiate praticamente tutti io utilizzo quasi esclusivamente oramai a meno che devo provare altri prodotti però quasi esclusivamente io utilizzo grow gorgeous allora vi faccio vedere le linee queste qua le hanno appena mandate quindi ci sono i pack tutti nuovi ma vi avevo fatto poco tempo fa un video dove vi ah no nel vlog vi facevo appunto vedere che ero appena uscita dalla doccia e avevo utilizzato grow gorgeous per cui mi stanno finendo mi hanno mandato quelli nuovi questi qua sono shampoo e balsamo questo è da 250 ml e è la linea intensive quella color marrone scuro marrone vaniglia la adoro ha un profumo veramente stupendo guardate i capelli come sono allora questi li ho lavati ieri quindi sono un po' sporchettini però sono sporchettini perché ieri ho fatto anche video per cui l'acca questo quell'altro quindi si sono sporcati però guardate la consistenza la luminosità quanto sono corposi quanto mi crescono velocemente il fatto che qua davanti se vi ricordate non riuscivo mai a farli crescere oramai qua cioè non c'è più non c'è più la paura che mi rimangano sopra il naso direi che l'abbiamo abbondantemente superata per cui praticamente io non mi posso dire per niente insoddisfatta anzi secondo me questi prodotti qua non li abbandonerò mai più non solo praticamente allora io ho fatto la stiratura ve l'avevo detto perché non riuscivo più a tenerli ogni volta li dovevo fonare da quando ho fatto la stiratura è ancora tutto molto meglio tutto più amplificato perché perché non li devo più asciugare con la piastra non li devo più fare con la piastra non li devo più mettere in piega li posso lavare anche una volta in più alla settimana perché non si appunto non devo asciugarli continuamente col fon e quindi non si rovinano sempre della linea intenso mi hanno mandato questa che è praticamente la crema questa qua si fa solo una volta alla settimana perché è molto strong quindi è meglio non farla proprio tutte le volte che si lava i capelli io li lavo tre volte alla settimana per cui la faccio solo una volta alla settimana poi mi hanno mandato questo che invece sono le gocce per l'anticaduta devo dire la verità oramai non mi cadono più per cui io tendenzialmente non ne ho più bisogno di queste gocce nel senso che utilizzo tutti i prodotti per lo scalpo che sono sempre di GroGorgeous e sono prodotti che praticamente vanno a nutrire quindi non sono per la sono tipo dei come si chiamano degli integratori che però vanno messi direttamente sullo scalpo magari vi lascio qualche clip se la faccio dopo dei prodotti che uso e vi lascio comunque nel box informazioni i link tra l'altro ci sono anche un sacco di sconti perché adesso fino al 28 c'è il Black Friday per cui tutti gli sconti che io ho con i prodotti con i brand con cui collaboro eccetera sono praticamente molto più alti per cui ve li lascio tutti quanti nel box informazioni e vi lascio anche i link per acquistare direttamente i prodotti quindi vabbè io questa non la userò la farò usare a Mr. X che invece come maschietto ha sempre problemi di perdita di capelli però è davvero ottima non appesantisce i capelli non irrita il cuoio capelluto però i risultati almeno io li vedo sui miei capelli guardate qua ho i capelli foltissimi e non solo ma sono anche belli gonfi belli grossi cioè veramente poi si sono allungati anche tantissimo quindi non so io li vedo io lo vedo molto mi hanno mandato da provare anche questo che credo che sia un prodotto nuovo della linea intense ed è un prodotto spray quindi lo proverò poi vi farò sapere perché questo sinceramente non l'ho mai provato poi mi hanno mandato anche invece la linea l'altra quella che utilizzo normalmente d'estate però in realtà questa qui la sta utilizzando Mr. X e sembra molto molto buona si chiama repair questa è sempre la maschera che va fatta una volta alla settimana questi sono shampoo e balsamo e questo invece è un olio che praticamente serve come termoriparatore anche di questo ecco quando io asciugo i capelli utilizzo sempre questo non della linea intense ma questo della linea repair perché lo utilizzo proprio come olio protettivo termico per asciugare i capelli come le asciugo i capelli dato che vi ho detto che non devo più far la piega eccetera eccetera col phon però non devo più stare lì ciocca per ciocca ad asciugare tutto a far la piega però anche il phon ragazzi è importantissimo perché il phon ti può tenere i capelli sani aiutarti a mantenerli sani oppure bruciarteli completamente io sto usando questo che si chiama paralux a lyon ed è un phon professionale ve lo faccio vedere non ve l'avevo mai fatto vedere credo che ci sia anche su amazon io l'ho ricevuto in regalo quindi non saprei dirvi però penso che ci sia così che ci sia anche su amazon comunque ce n'è sicuramente qualcuno con le caratteristiche uguali perché ero andata a vederli per cui sono sicura nel caso vi lascio giù nel box informazioni le caratteristiche con le quali cercarlo e magari se c'è qualche alternativa che ho trovato io questo è un phon super professionale e io lo utilizzo appunto ma semplicemente per asciugarmi la testa perché se no mi viene mal di testa mi viene la cervicale ma non lo sto utilizzando per far la piega quelle poche volte che mi serve di far la piega perché magari devo lavorare devo andare ad un evento o quello che è utilizzo delle spazzole nuove anche queste ve le faccio vedere perché una delle cose che ho scoperto negli ultimi anni è che anche la spazzola fa la differenza non solo per la piega ma purtroppo anche per rovinare o meno il capello e adesso ne parliamo insieme allora questo è il mio set di spazzole di olivia garden ve ne avevo già parlato e ve l'avevo già fatto vedere quest'estate perché l'ho acquistato quest'estate su amazon e tra l'altro spesso lo trovate in offerta al 50% e anche oltre per cui adesso che le ho utilizzate vi posso sinceramente dire con tutto il cuore compratele ma tutta la vita forever and ever allora perché vi dico così perché io ho sempre utilizzato spazzole di questo tipo quindi con la parte sotto in ceramica e quindi rotonde e con i dentini così però praticamente vedete la faccio vedere ok però praticamente siccome io sono abituata a tenere le cose molto bene non mi rendo conto quando è ora di cambiarle e quindi avevo queste spazzole nuove ma continuavo a utilizzare quella vecchia perché mi sembrava sempre nuova a un certo momento ho detto ma sai cosa c'è Eller prova ad utilizzare quella nuova e vedi la differenza e ho fatto metta testa con quella vecchia metta testa con quella nuova ragazzi la differenza si vede in maniera totale a dir poco per cui praticamente ho iniziato ad asciugarmi i capelli con queste nuove ogni tanto vanno cambiate io ho comprato questo set che tra l'altro è dotato di borsettina trasparente che si chiude l'ho comprato appunto su amazon tra l'altro lo trovate anche nella mia vetrina perché me ne ero veramente innamorata ed è stupendo perché ha dentro tutte spazzole così ma tutte e in alcuni ci sono ancora cartellini perché ancora non le ho utilizzate o perché le ho utilizzate ma non ho legato il cartellino ma sono tutte misure diverse e siccome le comprate insieme praticamente il risparmio è veramente grandissimo queste sono tutte quante quindi qua potete fare qualsiasi tipo di piega quindi utilizzare quella larghissima per la piega dritta dritta ed utilizzare invece queste piccoline se volete fare delle piccole onde io mi trovo veramente super 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 bene con queste spazzole non avrei davvero mai immaginato quindi ve le consiglio con tutto il cuore quindi ragazzi questi erano tutti tutti i prodotti che sto utilizzando in quest'ultimo periodo per quanto riguarda la skin care viso e corpo e anche per quanto riguarda l'air care se ci fossero domande ci fossero curiosità oppure volete vedere dei video nello specifico non so dove mi faccio la piega dove vi faccio vedere che tipo di massaggi faccio con i tools che uso oppure come applico i prodotti eccetera eccetera fatemelo sapere qui sotto nei commenti nel caso ci fossero questo genere di curiosità sarò felice davvero di insomma accontentarvi con un video vi ricordo che nel box informazioni vi lascio tutti e tutti i link e anche tutti i codici sconto che fino al 28 di novembre sono molto molto alti ve lo garantisco a me non rimane che salutarvi e se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò qui su Eller Channel a me non rimane che mandarvi un bacio e tanto ma tantissimo amore a me non rimane a me non rimane a me non rimane a me non rimane